E ormai è scattato il conto alla rovescia del derby di Milano. In casa Milan si cerca una vittoria contro i cugini che manca da troppo tempo e che se dovesse arrivare rimetterebbe in corsa il diavolo per un posto in Europa League. I rossoneri giocheranno da calendario in casa, ma Adriano Gagliani, amministratore delegato della società, ha già espresso il proprio favorito. L'Inter, l'Inter, è assolutamente favorita l'Inter. Uno stadio sui terreni expo si potrà fare? Ma non lo so, vediamo adesso. È comunque una cosa di cui si sta occupando Barbara, Berlusconi, quindi lascio a lei la parola. Sono tre anni che il Milano vince i derby. Ricordo l'anno dello scudetto. Esattamente, il 3-0. Sì, sì, abbiamo fatto qualche pareggio. Certo, assolutamente. Credo che sia arrivato il momento, speriamo, di invertire la tendenza. Infine, anche da parte milanista, arrivano omaggio per Javier Zanetti, che giocherà il suo ultimo derby. Il Milan è stato sempre il rivale di Zanetti, ma riconosce con piacere e assolutamente il suo stile, il suo fair play. Sono giocatori come il nostro Kakà, che sono patrimoni di tutto il calcio, perché rappresentano certamente una società, ma sono esempi belli per tutto il mondo.